Are you ready? All the best? All the best? All the best? Bene, and who is going to batte? All the best! RENARO! Vai, vai. And now! No. dobo bolta hai kai dobo creates war dobo bolta hai kai is thappad ki guond dobo bolta hai dobo bolta hai dobo bolta hai dobo bolta hai doli ba 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 un giorno a Tutti tutti i nostri spettatori in questa gara. Papa! Papa! Ci hanno dato un giusto. Mi hanno dato un giusto. Il primo installamento. Veer? Rolex? Cheap? Cheap? Un minuto. Un minuto, Papa. Papa! Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Second installment. Bata gift. Veer, chi è la idea di race? Prem. Lone? Prem, Prem. Chi è la casa? Prem. Prem. Lone? Chi è la casa? Prem. Prem. Prem! 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 Voi va! Voi? Voi? Grazie lei, buona parte! No! Eh! Pettacolo, mi fai! Alla sannacca amanda, dè il tuo! Voi toco, bata! Tu cosa dice, un po' che giro? Pettacolo, mi fai! Tu cosa dico, piro che giro? C'è quello che dice, pettacolo, dè il tuo! è ciao ma la Prendahui, la sua un'aria di avermi l'acqua. Ora non mi piacevà in questa mangle, mi resta nella mia salita! E' un'dheira! Ah, se l'ai venuto non stanno qui qui? Un'dheira mia! Mi non mi piaceva così come la mia? Hai! Mi non riesci dentro, come la mia! Hai! Hai, tu non riesci dentro, come la mia! Hai! Yoi! RENT Quale è la idea? Prem Quale è la depositazione? Prem Quale è la persona? Prem Quale è la mia? Chi è la mia? Oh, che è la persona? Oggi Aneh Aneh Vieni Chia One Is Do un solo Un d' sera ... Sì, che è un'embao? Mi sono i conti davanti, per esempio. E' così come la mia, perché la mia figlia non ha appena fatto a con il mio figlio. È giusto, è giusto, in questo modo. Mi sembrava che il soggetto di vivellino e si trascendano. Cosa? Quando vuole essere avellino con la figlia? Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Udia è così, è così. No, non, non, non. E io, è un'esca, sono lui. Mi figlia è la figlia. Dharam ci, io ho. che non è такая tradizione che sei a chi è una tradizione la tradizione è che propria tradizione vediamo viva fetiché e questo tipo di infrastrutture verti che dapso just chill miro miro hai ora ora che 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 ''Gaudu Tutsatsani Barani'' ''Gaudu Tutsatsani'' ''Gaudu Tutsani'' Who is it? Your brother is asking me Bambi è qui. Bambi è che questo, dipo il tuo tuo cuore alla scena. Il mio bebe è il mio buone, l'altro è il mio buone. Mamma non è mai nulla, non è il mio te? Mimiебi, Salesforce. sono io sono il 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 non è un po' no non è un po' e un po' perché è un po' che è un po' quello che è un po' è un po' non è un po' perché che è un po' che è un po' che è un po' perché il mio padre ha detto un po' mi ritme un continuo questo è un po d'artici un po' il mio più di apposta qui Loshito su di città 50 minute se il bacci piace di juro la mia dice che è un figlio pensava se non la te sia il bapso il dharma ma trolla a ti città la tua preferita è la sua è una specifica una media come il gioco come il gioco il gioco ogniайн I agree. I agree. Rattu, come on. Come on. You remember? Fuscular. Popular. Spectacular. Womanizer. Vidya, come here. Come here. Uffa and take Vidya. Thank you, Daddy. Voi aacharki barni garbhoti kè liè bèch rèthetè, Baba? Jasi karniwasi barni. Shame, shame, papi, shame. Is aadmi ko to... Yes! Nisi sogi mahala pako. Mahalapako. Ghoja! Ghoja! Banana kuenda? Baccia mimi na unge. Nini kuenda, aku na jiya. Miming, miming! Kill, kill, chill. Sepe-sema, bolo-bolo. Tut'amua, yeye, yeye, yeye. Nama Shai De Wako Bungo Yango Mininigol Oh my god Oh no, this is a mininigol Oh, you're going to kill me Ma, ma, ma This Lusotto file ha l'ha downloaded Why are we? No, 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 no Baba, Mimi è una cosa Haraka haraka, farà Haraka haraka, hai no Haraka haraka I'm going to kill the tail base Just chill, babe Goja Eko sharti moja Pamela yetto Mininig, meaning, meaning Bacchne ka sirp eki tariqa hai Kawn sa? Mujhe